Se me lo concedete, era una storia già scritta. Google Stadia chiude definitivamente i battenti, la chiusura effettiva avverrà il 18 gennaio 2023 e non preoccupatevi perché ci saranno i rimborsi di tutto quello che avete acquistato. Ora, la situazione è sicuramente incresciosa perché Google ha dimostrato di non saperci fare nell'ambito del gaming, ma non lo ha dimostrato adesso. Lo ha dimostrato al lancio della piattaforma, da quando avevamo dato per scontato che con un tot di euro al mese potessimo accedere a una pletora di titoli, un po' come avviene per il Game Pass. E c'era già il Game Pass, e c'era già GeForce Now, che ok, GeForce Now permetteva di acquistare alcuni titoli, ma permette anche di poter giocare i propri titoli già acquistati su Steam, Epic Games ed altri servizi senza doverli riacquistare all'interno del servizio. Stadia che cosa permetteva di fare? Di acquistare i giochi, sì, magari a prezzo scontato, ma sostanzialmente uno per uno a quasi prezzo pieno, o quasi appunto, per poterci giocare. Cioè io dovevo spendere 50, 60, 70 euro per giocarmi a un Assassin's Creed su Google Stadia senza poter accedere a una serie di giochi, se non quelli gratuiti o, per meglio dire, inclusi con l'abbonamento Pro, che tra l'altro è l'unico che mi fa avere accesso ai 4K, oltre che a varie funzioni, che sono state tanto decantate al lancio dalla stessa Google, ma che non sono mai state implementate per benino, intendiamoci. Cioè quella cosa di giocare con i propri youtuber preferiti mettendosi in coda, alla fine è stata una cazzata. C'era, ma così così. C'era e comunque è rimasta sempre in via del tutto sperimentale, personalmente non l'ho mai provata. E in quel modo si voleva creare una duplice offensiva, da un lato verso quei servizi come Twitch che permettevano già di giocare con i propri utenti, però in maniera più macchinosa. In questa maniera invece, avendo Google Stadia, direttamente si era catapultati all'interno del gioco con il proprio streamer youtuber preferito. Che già non è che fosse una cosa che saltasse più di tanto l'utenza, che di queste cose gli interessa, sì, ma fino a un certo punto. E dall'altro lo slogan potente con cui Google Stadia si è proposta sul mercato, si è affacciata sul mercato ormai tre anni fa, sostenendo che il futuro dei videogiochi non è in una scatola. Questa box che tra l'altro voleva ricordare un po' anche Xbox, no? Cioè il futuro dei videogiochi. E poi proprio Xbox vai a prendere, che quelli stanno puntando tantissimo sul Game Pass. Sia chiaro che qui non si sta gongolando, perché più offerte videoludiche ci sono e anche di fruibilità del videogioco, meglio è per noi videogiocatori, perché c'è una sana, si spera, concorrenza che poi può portare a dei risultati migliori in termini qualitativi dei servizi per noi consumatori. Quindi qua si sta facendo tutto fuorché gongolare. Anche perché siamo su YouTube, che è una piattaforma di Google, che ci dà il pane da anni. Quindi figuriamoci se non fosse nei miei interessi sostenere i progetti della grande azienda di cui facciamo parte. Tante volte ci siamo ritrovati a dover recriminare contro YouTube e contro Google, perché le cose giuste sono le cose giuste, signori. Un business model come quello di Google Stadia non poteva funzionare. Acquistare i giochi singolarmente per non averli e per giocarli singolarmente, a prezzo pieno o quasi, con un servizio che però tecnologicamente, a livello di hardware e di server e di supercomputer, che ci fanno girare questi benedetti giochi, senza farci pensare a dover avere un PC della madonna. Funzionava, funzionava benissimo, probabilmente come server Google, e la migliore in assoluto. Ma leggiamo il comunicato di Phil Harrison con la traduzione di Multiplayer.it per fare prima. Ringraziamo Multiplayer.it per questa traduzione, sperando che non si eccessivamente pedisse qua o sbagliata, ma suppongo di no. Qualche anno fa abbiamo lanciato Stadia. Sostiene Phil Harrison, vicepresidente e direttore generale di Stadia. E sebbene l'approccio di Stadia allo streaming dei giochi per consumatori fosse costruito su una solida base tecnologica, non ha ottenuto la trazione con gli utenti che ci aspettavamo. Ma guarda un po'. Business model questo sconosciuto. E questo fatto male, eh? Cioè, poter giocare con PC ultrapotenti, però acquistando ogni singolo gioco, quando nel frattempo ci sono altri servizi, come il Game Pass ed altri, che propongono un buffet. Un binge gaming totale. A un prezzo forfettario mensile, e certe volte anche un euro per tre mesi, offerte del genere, per poter accedere a un parco titoli fino a 700 giochi, che poi vengono rinnovati continuamente, più i giochi mensili gratuiti. E questi sì, Google Stadia solo a livello Pro ce li aveva. Quindi abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia. Viene confermato da Harrison che i dipendenti che hanno lavorato a Stadia saranno distribuiti verso altri settori dell'azienda. Ricordiamo che Google è incredibilmente grande, incredibilmente ricca, forse non quanto Microsoft, no, anzi, non quanto Microsoft, ma incredibilmente ricca, pertanto potrà impiegarli in altri settori, perché Google ha le mani in pasta un po' dappertutto. Inoltre ci fanno anche sapere che le tecnologie utilizzate per Stadia saranno utilizzate per altri servizi. E questa è una buona cosa perché i server sono straordinari. Oltre che, ci fa sapere sempre Phil Harrison, c'è la possibilità di vendere un po', no, questo servizio Stadia, quindi giocare online mediante streaming, ad altri che attualmente sono stati competitor. E questo fa il paio con la notizia che vi abbiamo dato qualche mese fa riguardo un possibile rumor. Vi ricordo sempre che noi prendiamo in considerazione soltanto i rumor potenzialmente più validi e quelli più accreditati, in cui si sosteneva che Stadia già stesse facendo, Google stesse cercando un possibile acquirente del servizio Stadia, ovviamente da ribattezzare con un altro nome e con un altro brand, da vendere ad altri. Si parlava in particolare di Capcom ed Electronic Arts, due potenziali acquirenti di questo servizio che ovviamente avrebbero goduto di una sorta di svendita del servizio. Adesso ha maggior ragione. Ovviamente, come detto, ci saranno rimborsi, che, lo so, non è quello che vi aspettereste di avere perché voi vorreste continuare. Io mi rivolgo agli appassionati di Stadia perché poi ce ne sono stati e, come per ogni iniziativa di questo tipo, come per ogni servizio, ci sono anche gli amanti, i fan dei vari servizi. Nonostante, infatti, ci siano state delle remore inizialmente anche da parte nostra. Infatti abbiamo fatto un video in cui sostenevamo che per adesso non ci siamo e non ci siamo stati mai. Ricordiamo anche quel messaggio che ha fatto parecchio ridere e che è diventato un meme in cui Google Stadia si è ridicolizzata da solo su Twitter con l'acronimo del nome Stadia che sarebbe dovuto corrispondere per ogni lettera a un gioco diverso presente sulla piattaforma e alla lettera I c'era la faccina così. Spallucce. Per la serie non c'è nessun gioco con la I. Quando gli altri servizi avrebbero potuto rispondere a Google Stadia, alla lettera I, almeno 500 giochi. Ecco. E ricordiamo soprattutto, e questo era senz'altro un indizio maggiore, la liquidazione della divisione appositamente creata da Google Stadia per la produzione interna di giochi con a capo Jade Raymond che adesso è passata ad un team che è nelle simpatie di Sony e che quindi potrebbe lavorare a qualche esclusiva PlayStation anche se non solo. Insomma, signori, è una situazione che secondo me era scritta già da tempo. Google Stadia prevedeva un business model che a me onestamente non convinceva nell'ottica di una spendibilità futura. E questo futuro maligno, questo futuro tetro, è arrivato prima del previsto. Addirittura sta chiudendo e il 18 gennaio 2023 ci siamo quasi. Signori, formalmente, vogliono andare a ridosso del prossimo anno fiscale senza neanche completarlo perché l'anno fiscale chiuderà a marzo 2023 per poter chiudere definitivamente e ufficialmente il servizio. Ma la comunicazione ufficiale è arrivata oggi. D'altro canto, però, se vogliamo ampliare questo quadro a un livello più generale, Stadia è soltanto uno dei servizi fallimentari di Google. Ne abbiamo avuto riprove in passato. Ricordiamo i Google Lens o Google Glasses, adesso neanche ricordo come si chiamino. Ricordiamo il social network che avrebbe dovuto fare spietata concorrenza a Facebook, ovvero Google+, che poi si è rivelato utile soltanto a livello aziendale, appunto, per le aziende. Ma era stato implementato, vi ricorderete, se bazzicate YouTube da almeno 5-6 anni, il collegamento con la sezione commenti tra Google+, e YouTube, poi abbandonato e slegato, quindi un'indecisione di fondo. Ma tanti sono stati i servizi di Google che hanno teso a imitare la concorrenza. D'altro canto, YouTube sta facendo di tutto per cercare di somigliare a Twitch per quanto riguarda le live streaming, e non possiamo dimenticare i post community che volevano un po' fare il verso a quella che era un'impostazione più facebookiana, così come le stories prese pari pari da Instagram, e poi ricordiamo anche, non ultimi, gli shorts. Quindi, signori, di cosa stiamo parlando? Parliamo di un'azienda che ha sempre teso a vedere ciò che facevano gli altri, rifacendolo in maniera promettente, gigante, gargantuesca, promettendo maremonti, e che poi alla fine si è risolto tutto in una bolla di sapone, ma la cosa più grave è proprio Google Stadia. Perché se non altro, quest'idea del futuro, che non sarà in una scatola, ma nel gioco in streaming, è valida, ed è il vero futuro che il videogioco sta cominciando già da un po' a perseguire, e verso cui anche i produttori di console stanno andando, ovvero Microsoft in primis, e anche Sony, e adesso che cosa abbiamo? Quindi una Stadia che ha fallito pure in un settore il cui futuro sembrava roseo, per un business model totalmente inadeguato. Signori, fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate, ci tengo a dirlo alla mia, forse una reazione un po' non rancorosa, ma di rabbia, perché sono dispiaciuto in realtà di questo fallimento. Sono pienamente dispiaciuto, perché più concorrenti, tra cui uno fortissimo come Google, significa maggiori benefici per noi consumatori nell'immediato futuro e anche nel prossimo futuro a lungo termine. Così se ne va un competitor importante, ma che non è mai stato davvero importante proprio per il suo business model decisamente anacronistico, decisamente fuori tempo e totalmente fuori dagli stilemi che le altre aziende invece stavano perseguendo. Fatemi sapere qui sotto e alla prossima.